Mister, possiamo dire che oggi abbiamo visto un po' tutta la crudeltà, tra virgolette, a volte il calcio, perché l'Udinese la partita l'ha persa anche con un passivo pesante, però specialmente la prima frazione ha avuto occasioni da gol e condotto anche la partita per larghi tratti. Sì, ha fatto un'analisi giusta, non ho niente da riproverare ai ragazzi, l'atteggiamento è stato giusto, la volontà anche per questi gol lampo che hanno fatto loro è stata sempre la volontà di una squadra che vuole andare a riagguantare il risultato e a vincere la partita. A larghi tratti abbiamo condotto la partita e poi c'è una cruda realtà che deve accettare, che abbiamo subito quattro gol e andremo a lavorare in settimana su quelli che sono gli aspetti che hanno portato a questi gol. Chiaramente immagino che i ragazzi fossero anche abbattuti per le proporzioni del punteggio in relazione alla partita che si è giocata, può essere questo uno spunto su cui lavorare al di là del campo, l'aspetto psicologico dopo vista le proporzioni della sconfitta? Siamo professionisti, è giusto essere abbattuti, da domani un colpo di spugna e si riparte, si riparte perché la strada è questa, non lo ha dimostrato il risultato ma l'ha dimostrato il gioco e l'atteggiamento. Lo spunto maggiore di lavoro è sulla concretezza sottoporta o sul limare qualche imperfezione? Anche se però c'è da dire che dati alla mano il Verona ha avuto un'efficienza offensiva paurosa, non è che l'Udinese abbia concesso chissà quanto difensivamente. Il Verona ha avuto il 150% della... Quattro gol con cinque tiri nello spesso. Esatto, e noi non abbiamo fatto i 1 con 21, quindi però al di là di quello non c'è nemmeno da cercare fantasmi. Il calcio è questo, va accettato, la consapevolezza di una squadra che gioca, che lotta, che sta bene ci deve essere, è chiaro che se prendi quattro gol tutto perfetto non è e quindi si va a lavorare su quello che non è perfetto.